Dronisti e droniste, siete pronti a scoprire che fine faranno i nostri droni e cosa servirà per volare in Italia da ora in poi? Decolliamo! Dopo aver salutato il regolamento transitorio lo scorso 31 dicembre 2023, abbiamo dato il benvenuto al famoso regolamento europeo, che rivoluziona di non poco tutto il mercato. Probabilmente sarete stati bombardati anche voi di video e articoli sull'argomento, si sente sempre più parlare di classi e di categorie. In base alla classe di appartenenza si è più o meno svincolati nel volo. Ora ci colleghiamo con Gabriele Turci di Dronext, che ci spiegherà le ben note A1, A2 e A3, cosa sono e cosa ci permettono di fare. Ciao Gabriele, bentornato sul canale, grazie di essere collegato. Ciao Mattia, grazie a te come sempre. Vai con l'A1. Allora, Open. Open A1. Cosa posso fare in Open A1? Posso pilotare il mio drone dove voglio, perché dalle zone rosse, quindi in ambiente urbano, in ambiente extraurbano, senza rispettare alcuna distanza di sicurezza dalle persone. Ed è l'unico caso, nel panorama normativo. A2, posso pilotare anche qui in ambiente extraurbano e in ambiente urbano il mio drone, ma qui devo rispettare una distanza di sicurezza dalle persone non coinvolte nell'operazione, una distanza minima di 5 metri. A3, posso pilotare solamente in ambiente extraurbano, quindi ad almeno 150 metri da persone non coinvolte, agglomerati urbani o animali, quindi sostanzialmente in piena campagna. In tutti e tre i casi devo mantenere il drone a vista. La classe A1 è la più svincolata, come abbiamo visto, ma come possiamo sapere se il nostro drone rientri o meno in questa classe? Allora, qui devo fare un distinguo tra i droni di peso inferiore a 250 grammi e i droni di peso superiore ai 250 grammi, ma inferiore a 900 grammi. Dal primo gennaio, quindi da pochi giorni fa, non sono più attive le limite d'open categories. Siamo entrati nel regolamento europeo al 100%. Come previsto dal regolamento, tutti i droni che escono adesso sul mercato devono essere marcati, quindi devono avere una C con un numero, C1, C0, C2, C3, C4 e così via, che mi indica dove si va a posizionare il mio drone all'interno di queste sottocategorie di cui abbiamo parlato prima. Se il drone ha già questa marcatura, faccio un esempio del Mavic 3 classico, che è marcato C1, ecco che molto semplicemente mi andrà a finire in A1. Se invece ho il Mavic 3 Enterprise marcato C2, mi va a finire in A2. Se il mio drone non ha la marcatura di classe, la situazione è leggermente più complicata, perché devo andare a vedere se pesa più o meno dei 250 grammi. Se pesa meno di 250 grammi e non è marcato, ripeto, però ha il peso dichiarato, questo famoso M-TOM dichiarato nel manuale del costruttore, mi finirà nella categoria A1. Se invece, come il Mini 4 Pro ha già la marcatura C0, mi va a finire nella categoria C0. C0 è una sottoclasse della A1 e quindi sostanzialmente non cambia nulla, se non che la marcatura C0 mi impone un limite di 120 metri dal punto di decollo, mentre se ho un Mini 2, un Mini 3 o qualunque altro Mini che non è marcato, non ho questo limite. I droni invece di peso superiore a 250 grammi, che non hanno una marcatura di classe o che non l'hanno ricevuta retroattivamente, finiranno tutti nella categoria A3. Quindi anche se io ho un drone, per dire un Mavic 1, che pesa meno di 900 grammi, quindi potenzialmente potrebbe finire nella A1, in realtà non essendo marcato, viene tra virgolette penalizzato da questo punto di vista e va a finire in A3. Cioè potrò continuare a pilotarlo, ma solamente a 150 metri da persone, animali o edifici agglomerati urbani. Verificate le possibilità di volo in base al drone in nostro possesso, passiamo a quello che ci occorre nel ruolo di pilota per poter volare nel rispetto del regolamento. In primis il patentino A1-A3, perché ci qualifica nel ruolo di piloti, è la base del regolamento e ci permette di ottenere più facilmente i permessi di volo, anche nel caso in cui stessimo pilotando un drone C0. Come il patentino A2 può essere fatto online e consiglio di farlo a tutti, perché l'investimento è davvero contenuto e inoltre grazie al manuale e ai test che sono inclusi all'interno del manuale, ottenere questo patentino è davvero facile, perché siamo proprio guidati in tutti i passaggi e riusciamo ad avere tutte le conoscenze per raggiungere poi il nostro obiettivo. Troverete i link in descrizione ai manuali che anch'io ho utilizzato a suo tempo per poter ottenere sia il patentino A1-A3 che il patentino A2, tutto online comodamente da casa. Perché ottenere anche il patentino A2 ha senso? Questo è un consiglio anche che mi permetto di dare, innanzitutto per andare a completare la formazione base e quindi per il solito discorso che facevamo prima dell'andare a certificarsi e a presentarsi anche con un pacchetto formativo più completo e poi perché ci rende già compatibili al pilotaggio di droni che sono in classe A2, di conseguenza qualora le nostre esigenze dovessero cambiare, volessimo un drone più performante di un drone sotto i 250 grammi o di un drone in classe A1, bene lo potremmo già pilotare grazie al patentino A2. E poi da non sottovalutare ci offre l'opportunità di andare avanti con le certificazioni, con gli attestati e di conseguenza di conseguire ciò che andremo a vedere a fine di questo video che è una certificazione molto importante e che ci sblocca un mondo di opportunità, non da poco. Ma per poter arrivare a quel punto dobbiamo prima avere A1, A3 e A2. Patentine a parte occorre anche il manuale di volo, di facile consultazione, lo possiamo anche avere sul nostro smartphone scaricato anche perché i manuali vengono aggiornati costantemente quindi stare a stamparli a livello ambientale non è il massimo. Il manuale di volo è quello che si trova direttamente sul sito del produttore e quindi nel caso di un mini 4 Pro sarà sufficiente andare nel sito DJI nella sezione scarica e andare poi a cliccare sul pdf e salvarselo sul proprio portatile o sul proprio smartphone, su ciò che abbiamo sempre dietro, è meglio. Poi ci occorre l'assicurazione. Come per l'auto abbiamo diverse compagnie tra le quali scegliere, purtroppo non tutte sono in linea con il regolamento. Io sono cliente Coverdrone da circa 3 anni e l'anno scorso ho avuto il piacere di conoscere Pierfrancesco Colaiacomo che è il rappresentante italiano di Coverdrone. Ora ci colleghiamo con lui per scoprire come scegliere l'assicurazione in base ai requisiti richiesti dal regolamento. Bisogna avere una polizia di responsabilità civile che sia chiaramente conforme al regolamento europeo e che abbia dei requisiti minimi di copertura di responsabilità civile nei confronti di terzi. Il requisito minimo da rispettare sono 750.000 diritti speciali di prelievo. Il diritto speciale di prelievo è una valuta reale, vera e propria. Tieni presente che al cambio odierno sono circa 1.010.000 euro che sia conforme a quanto richiesto sia dal regolamento europeo che dal codice della navigazione. È necessario che l'assicurazione abbia una sorta di appendice, una comunicazione particolare che dica, che attesti, che è conforme a questo 2024 regolamento? Me l'hanno chiesto in diversi. Dipende dalle polizze. Di nuovo se si sceglie una polizze aeronautica, no, perché i limiti di peso sono abbondantemente superiori. E comunque non fa una distinzione tra massa massima al decollo, peso massimo al decollo. Non crea problemi, soprattutto per quei droni, no, perché la casistica è scoppiata sui droni C0 e quindi sui 249, ma allora è dichiarato o non è dichiarato? Assolutamente, perché poi ci prendono le specifiche tecniche dei droni stessi. Siccome è successo a DJI per il Mini 2, DJI ha dichiarato che il peso massimo al decollo è 242 grammi, come era dalla sua specifica tecnica. Quindi ha modificato il manuale di istruzioni e lì è entrato tutto in ordine, insomma. Parlavi di polizze aeronautiche, quindi Cover Drone è una polizze aeronautica? Cover Drone è una polizze aeronautica, una copertura aeronautica pura, sì, perché segue sempre il codice della navigazione, completamente conforme al regolamento aeronautico. E tutto quello che abbiamo visto. Vuol dire che ha tutta una serie di garanzie che il regolamento aeronautico prevede, compreso che posso dire gli atti di terrorismo, compreso gli atti di pirateria aerea, quindi è conforme a 360 gradi. Grazie Pier per l'intervento, a completamento dell'esperienza fatta fino ad oggi con Cover Drone, uno dei servizi che più mi sono piaciuti è la possibilità di stipulare una polizze aggiuntiva, quindi oltre alla copertura annuale che solitamente ho, mi è capitato di avere l'esigenza di stipulare una polizze assicurativa di un giorno per coprire delle esigenze specifiche per un lavoro che avevo poi ricevuto. Di conseguenza questa opportunità qua mi ha dato modo di assicurare anche tutta l'attrezzatura, anche a livello di danno e furto, quindi essere più tranquillo poi nell'eseguire il lavoro in quella determinata giornata, dove dietro in macchina c'era dietro il mondo. Dopo aver stipulato l'assicurazione, qualora voleste scegliere anche voi Cover Drone, troverete il link qui in descrizione, dovremo registrarci al sito di Flight, al portale italiano di Flight. Questo portale ci permette di ottenere previo pagamento il famoso QR code operatore che va installato sul drone e mi sono fatto fare dall'America questa paginata di mini QR code adesivi che vado ad apporre su tutti i droni che ho il piacere di provare e su Avata ho dovuto mettere un QR code per batteria perché non c'era spazio sul drone. Il QR code può essere da 6 euro base o da 24 per i professionisti, ci identifica ed è obbligatorio da avere sul drone al momento del decollo, deve restare proprio con il drone per tutta la durata del volo. D-Flight permette poi la configurazione della propria flotta di volo, qualora fossimo in possesso di più di un drone è consigliato inserirli tutti all'interno della flotta per poter avere la piena copertura assicurativa. Non è obbligatorio acquistare il QR code per ciascun drone presente in flotta, salvo per esigenze specifiche come per noi piloti specific. La piattaforma ci offre anche un altro servizio che è la consultazione delle mappe di volo, infatti prima di volare è necessario verificare eventuali restrizioni. Ora ci ricolleghiamo con Gabriele per andare a vedere come consultare le mappe e apprendere i limiti. Perfetto Mattia vedo che ti sei già logato all'account di D-Flight, come puoi vedere l'Italia non è tutta uguale ma è distinta in tante zone di colori diversi, se guardi poi sulla tua sinistra in basso vedrai quella leggenda che ti dà un'idea in base al colore della zona dell'altezza massima alla quale puoi volare, si va dagli 0 metri della zona rossa ai 25 metri della zona arancione, 45 nelle zone gialle e così via, fino ad arrivare alle zone non colorate, che sono quelle che a noi piacciono di più, nelle quali si può volare fino a 120 metri. Scegli magari un punto a caso sulla mappa. Tipo dove sei te, ti vengo a trovare con il drone, va bene? Ah va bene, gossolengo allora. Ok, eccoci qua. Sei in un bel limbo tu eh. Eccoci qua, come vedi, qui di zone non colorate ce ne sono poche, ahimè. Allora, se fai un po' più di zoom, vedi che c'è questo rettangolo al centro dello schermo, questo rettangolo ci indica la presenza di una pista di atterraggio. Se tu clicchi in un punto qualsiasi di questo rettangolo rosso e poi sulla I di informazioni, vedrai che D-Fly ti indica altezza, open, 0 metri. Se apri poi le regole dell'aria ti spiega che cosa significa, significa che se tu vuoi volare in categoria open, in questa particolare zona non puoi farlo. Puoi volare solo, esclusivamente, se hai un attestato specific e chiedi il permesso. Ok. Seguendo tutta la trafica. Sì. Zone interessate poi qui ti dirà che sei in presenza di una biosuperficie autorizzata, l'aeroclub Piacenza. Se però ti sposti leggermente e vai in quell'altra zona, in quell'altro rettangolo più ampio, vedrai che è una zona arancione. Ok. Zona arancione, anche qui se ci clicchi sopra, ok, altezza massima 25 metri, open. Che significa che se tu hai un patentino A1, A3, un patentino A2, oppure anche nessun patentino ma voli con un drone sotto i 250 grammi, puoi farlo se non superi i 25 metri. Sopra i 25 metri invece devi avere l'attestato specifico e devi chiedere il permesso. Se poi ti sposti ancora e vai in quella gialla, stesso identico ragionamento, cambia solamente l'altezza massima alla quale puoi operare in open e passa in questo caso a 45 metri. Grazie Gabriele anche per questo intervento. Tra l'altro sul suo sito e quindi date un'occhiata qui in descrizione perché ho messo tutti i link, ce n'è uno che vi porterà al manuale di volo per le zone rosse, che consiste in una guida con all'interno tutte le informazioni per ottenere i permessi di volo in zona rossa. Oltre a D-Flight c'è anche un altro portale non ufficiale, veramente completo e da utilizzare per completare la consultazione delle aree di volo in casi complessi, si chiama Desk Aeronautico e lo trovate anche lui in descrizione insieme a tutti gli altri riferimenti. In futuro e spero non troppo lontano per l'Italia, per il nostro bel paese, DJI integrerà le mappe di volo D-Flight all'interno del proprio sistema Geo e quindi dell'applicazione di volo come in questo caso l'ultima uccita DJI Fly. Direttamente dall'app avremo modo di vedere, di consultare le mappe di volo. Ma la cosa più bella sarà che non ci saranno più incongruenze tra il portale DJI e quello D-Flight e di conseguenza non capiteranno più situazioni dove molti piloti non sono poi riusciti a decollare in una determinata area perché per DJI era ancora rossa quando su D-Flight la limitazione non era più presente. Attualmente questa integrazione è disponibile già per molti paesi dell'Europa e ve li leggo perché sono tanti. Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Germania, Francia, Lituania, Irlanda, Regno Unito e Svizzera. Quindi incrociamo le dita perché ne mancano pochi in Europa. Il motivo che sono riuscito a scoprire e per il quale non siamo ancora stati integrati è perché il sistema è troppo vecchio, sono in ritardo con gli API e quindi non c'è modo di integrare le mappe di flight dentro DJI. Speriamo bene. Per poter esprimersi al meglio utilizzando il proprio drone per scopi lavorativi in zone rosse controllate da strutture come gli aeroporti è necessario l'attestato specific. Questo completa la formazione da piloti ed apre le porte all'attestato finale BVLOS che permetterà il volo senza contatto visivo del drone da parte del pilota. Su questo tema trovate un video dedicato in descrizione dove vi racconto l'esperienza fatta nel conseguirlo i vantaggi, i pregi di questo attestato insieme alla DT Academy e a Gabriele Turci di Dronext. Spero questo video sia stato utile ed abbia chiarito tutti i vostri quesiti. Se sì lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i video a cui sto già lavorando. Facciamo ora un recap di tutto quello che abbiamo visto in questo video al fine di poter volare rispettando il regolamento. Manuale di volo, quindi le istruzioni del nostro drone, l'assicurazione, il patentino 1 a 3 consigliato a tutti e la 2 obbligatorio per droni come il Mavic 3 Pro. Poi abbiamo la registrazione su D-Flight con il QR code operatore che dovremo andare a scaricare, stampare e installare sul nostro drone e dovremo poi verificare se l'area nella quale intenderemo volare sia o meno soggetta a restrizioni e nel caso in cui lo fosse a tenerci alle altezze massime indicate. Qualora non vi fossero restrizioni 120 metri d'altezza massima. Contatto visivo con il drone sempre, non dobbiamo essere per forza noi a controllare il drone, ci può essere un osservatore accanto a noi a farlo, l'importante è che sappia identificare sempre la sua posizione e l'assetto del drone. Se realizzate poi montaggi video e siete interessati ad approfondire come fare video editing, allora fate un salto sul mio sito mattiantonelliofficial.com per scoprire la masterclass di video editing su Final Cut Pro per Mac e per iPad con video lezioni dedicate per ogni argomento, troverete il link in descrizione. Io vi auguro uno splendido 2024 e vi auguro un buon decollo, ci vediamo presto, buona continuazione su YouTube.